Firmato il contratto tra amministrazione comunale e i tre finanziatori che termineranno i lavori al teatro tenda di Arezzo nella zona Ipercop. Questo significa che finalmente c'è l'ufficialità del contratto e i lavori per completare l'opera possono partire anche da subito. I tre sponsor, Butali, Gruppo Graziella e Massai, con 280 mila euro, finanzieranno i lavori conclusivi della struttura che da tempo attende di essere inaugurata non solo esternamente. Butali finanzierà il 50% della somma pari a 140 mila euro. Il gruppo Graziella è il 25%, 70 mila euro, Massai il restante 25%. A quest'ultimo è affidata anche la realizzazione dei lavori. Soddisfatto l'assessore Franco Dringoli, ora via ai lavori all'impianto elettrico di riscaldamento e quello per il condizionamento dell'aria e a parte degli arredi che serviranno per la biglietteria e per un eventuale bar. Cosa ci guadagnano di sponsor? Cartellonistica pubblicitaria, esposta fuori dal teatro e materiale di comunicazione. Il comune che si è impegnato a realizzare 28 spettacoli in 10 anni, pensa ora ad un bando per l'affidamento della struttura che potrebbe essere anche a gestione comunale. Tutto da valutare. Intanto si pensa ai primi spettacoli al tenda che se tutto va come deve andare arriveranno entro fine anno.